Lo scorso fine settimana avevano creato il panico tra i residenti con una maxirissa in via degli accolti ad Arezzo. Adesso sono scattati gli arresti. A casa degli aggressori trovate anche mazze, asce e cocaina purissima. I carabinieri infatti in una sola settimana sono riusciti a risalire responsabili. L'attività investigativa, fondata sulle acquisizioni testimoniali e sulla visione delle telecamere pubbliche e private di tutta la zona, ha consentito di raccogliere importanti elementi sull'identità di alcuni aggressori, facendo ritenere che lo scontro fosse riconducibile a riassetti nello spaccio di stupefacenti nella città da parte di gruppi criminali albanesi. Una volta individuati è poi scattato il blitz. I militari, durante le perquisizioni domiciliari, nei confronti di due uomini e una donna, tutti di origine albanese e residenti ad Arezzo, hanno trovato e sequestrato asce in acciaio, mazze e coltelli combat, ma non solo. Le operazioni di ricerca hanno consentito di rinvenire anche 300 grammi di cocaina purissima, suddivisi in un involucro sottovuoto da 250 grammi, e in altre dosi alcuni grammi di marijuana, circa 30.000 euro, ritenuti provento dell'attività di spaccio, e materiali per il confezionamento delle dosi. Il panetto principale, in particolare, era nascosto in una cantina affidato alla vigilanza della giovane donna, senza precedenti e quindi meno sospettabile. Le attività di perquisizione hanno portato alla luce, infine, anche alla contabilità dell'attività di spaccio del gruppo, con tanto di indicazione analitica degli intermediari e degli acquirenti. I tre sono stati arrestati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio in concorso ed associati alla casa circondariale di Sollicciano, in attesa delle decisioni della Procura della Repubblica.